la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati alla nostra rassegna stampa partiamo con la prima pagina del mattino il titolo di apertura Conte 2 maggioranza più stretta al Senato 169 favorevoli due in meno dei giallo-verdi crescono i contrari duello Premier Salvini e Gentiloni commissario europeo per l'economia ma sarà affiancato dal falco del rigore Dombrovski rimaniamo di taglio alto con l'intervista al ministro del lavoro Catalfo il Jobs Act dice non cambia per quota 100 qualche ritocco poi il focus del mattino a Silinido gratis il 90% del bonus finisce al nord di lato città metropolitana lascia il pool anti-agenti l'ultimo flop di De Magistris l'organismo anticorruzione della città metropolitana di Napoli non esiste più i tre membri della struttura Carlo Alemi ex presidente del Tribunale di Napoli Omero Ambrogi ex presidente della terza corte d'assise d'appello di Napoli Antonio Guida ex presidente del TAR della Campania hanno rassegnato le dimissioni nell'addio un atto d'accusa all'amministrazione incapace di interazione Su centro pagina troviamo lo sport la presentazione Llorente il bello vi regalo il mio cuore della punsecchia Ancelotti giochi chi è in forma sempre su centro pagina killer del vigilante bufera sui giudici per la festa premio il capo della polizia non capisco la rabbia dei familiari il figlio parla di una vergogna intanto è probabile un'indagine interna è il capo delle toghe minorili su questo la legge dice lo consente sono sbagliate quelle foto di taglio basso il caso Ischia il veleno per i topi fa strage di pesci in mare questa era la prima pagina del mattino rimaniamo sul mattino in primo piano la politica la battaglia sui sottosegretari la faida Movimento 5 Stelle non siamo un ufficio di collocamento rivolta nelle commissioni contro Di Maio nomine a rischio rinvio e Conte rassicura Fraccaro Chieppa rinuncia ma dovrai essere equidistante da Palazzo Chigi aprono le braccia di sicuro giovedì ci sarà il consiglio dei ministri per i sottosegretari vediamo e aspettiamo dal PD partito dalle mille correnti commentano una con perfidia attendiamo i metodi democratici del Movimento 5 Stelle noi ci siamo ecco il punto è proprio questo tra i grillini è in corso una guerra stellare tra chi dovrà entrare nel governo si susseguono riunioni annullate e poi notturne si favoreggia di urla e scontri interni le cordate si muovono poi si accapigliano il Premier Giuseppe Conte osserva per il momento ancora con pazienza anche se si limita a dire sulle nomine di sottogoverno faremo il prima possibile messaggio ai grillini sbrigatevi e Toninelli furioso non vuole entrare io fatto fuori senza neanche un sms ipotesi 30 al Viminale di taglio basso Renzi e il piano per un nuovo gruppo col proporzionale sarebbe consensuale appena votata la fiducia mentre nell'aula del Senato comincia il conteggio delle schede Matteo Renzi impugna lo smartphone e scrive un post su Facebook per celebrare quello che chiama il mio capolavoro e ai suoi confidi l'operazione è andata in porto benissimo sono strasoddisfatto ho fermato l'uomo che voleva pieni poteri certo se si fosse puntato sul cantone come avevo proposto sarebbe stato tutto più facile avremmo avuto meno problemi ma va bene così come va bene avere il commissario europeo e gronda di soddisfazione mi hanno raccontato dice che Salvini prima di sfiduciare Conte ha chiamato Zingaretti per chiedergli se anche il PD voleva andare sparato alle elezioni Nicola gli ha risposto di sì non hanno però tenuto conto del sottoscritto ed è stato tutto molto divertente e soprattutto molto giusto per quanto riguarda un nuovo gruppo la nascita di un nuovo gruppo renziano alla Camera il Senato sarebbe vietato dal regolamento dice che se il gruppo si farà sarà frutto di una sorta di separazione consensuale nessun dramma il tema vero è che nel PD vogliono rientrare D'Alema e Bersani se loro tornano io vado un epilogo che con il sistema proporzionale sarebbe appunto consensuale e lasciamo questa pagina andiamo avanti rimaniamo sempre sul mattino parliamo di asili gratis il bonus per il 90% va al nord Conte annuncia primo impegno sarà a diffondere il servizio dei nidi rette zero certe sin dal 2020 2021 per il sud promesse su tempi lunghi il primo immediato intervento sarà sugli asili nido non possiamo indugiare oltre ogni capo di governo cerca un'azione concreta e simbolica con la quale far partire il proprio mandato subito dopo aver ottenuto la fiducia Giuseppe Conte ha scelto di partire dai nidi settore sia sociale sia educativo nel quale l'Italia è in forte ritardo rispetto all'obiettivo europeo di offrire un posto almeno al 33% dei piccoli sotto i tre anni target che l'Italia si era obbligata a raggiungere entro il 2010 mentre nel 2016 ultima rilevazione Istat siamo appena al 21,6% tra strutture pubbliche e private con il mezzogiorno molto indietro in particolare per Puglia Sicilia Calabria e Campania Fanalino di Coda con il 6,7% e se si considerano solo le strutture pubbliche e massima parte comunali le percentuali si dimezzano l'impegno di Conte quindi sembra indirizzato soprattutto ai territori dove il servizio è particolarmente carente in modo da avviare senza indugiare oltre il riequilibrio annunciato da anni ma le cose non stanno esattamente così passiamo alla prima pagina del mattino di Salerno che apre con la scuola la scuola dei prof malati l'anno inizia con il record di insegnanti fermi ai box inidonei al servizio casi triplicati dal 2017 in 32 esonerati dalla commissione medica per stress e anzianità la lettera agli studenti da bellandi auguri citando Pavese l'unica gioia è cominciare di lato l'economia ZES c'è la svolta a bando per le aree su cui investire poi gli industriali navigator boccia con De Luca utili se offrono lavoro vero e ancora le grandi opere Cava il sottovia porterà il nome di Don Guerino mitico patron poi il caso Corteo Alfieri stop definitivo alle ambulanze di Croce Azzurra centro pagina la Salernitana sale la febbre del derby la carica dei fedelissimi obiettivo 15.000 alla Rechi sempre sul centro pagina l'ambiente strade sporche i cittadini a San Matteo puliamo noi la provocazione Spazzini fai da te per il patrono parliamo ancora di ambiente scarichi veleno affosso imperatore sequestrata una fabbrica a Pagani e di taglio basso la cronaca il giallo di Castellabate albergatore muore sulla spiaggia dell'hotel lasciamo il mattino spostiamoci sulla prima pagina della città l'apertura non c'è sostegno il disabile resta a casa l'odissea Pellezzano sei anni e mezzo non potrà iniziare le elementari a causa delle assenze nell'organico dell'istituto il sindaco sono impotente la dirigente scolastica no comment le famiglie si rivolgono al Tar sotto la testata l'intervista allo titolo la salernitana volerà non è la figliastra della Lazio e poi la storia giù dei sacrifici di Loreto vede le Olimpiadi centro pagina Salerno sporca e le confessioni mazzette per ritirare i rifiuti poi l'emergenza nei Picentini parapoti è tutto rinviato regione fermata dai tecnici di lato all'Ateneo infermieri via al testo oltre mille aspiranti per soli 245 posti poi la sentenza lucida artista il flop dei francesi di corso in ritardo sempre di lato lo spreco ex Gofima i Cavesi pagano mille euro al giorno il caso spente per sempre le sirene di Squecco Agropoli Eboli tifoso Morin Corsia sequestrati gli atti di taglio di taglio basso Nocera nuovo presidente al tribunale Robustella ora più giudici e confessa in incognita ho già visitato la struttura che dirigerò infine Pagani Gambino incandidabile acquista gli oppositori diamo ora un'occhiata alla prima pagina di Cronache l'apertura Fittopoli Salernitana quanta gente non paga gli immobili del comune i revisori dei conti puntano il dito sulla riscossione da avviare in maniera coatta inoltre il consiglio comunale dovrà approvare l'abolizione del difensore civico sotto la testata l'iniziativa stop alla fuga di cervelli un'isa riparte dalle aree interne Castellabate l'albergatore di Sessa ritrovato morto sulla spiaggia da due turisti Centropagina lo sport la carica degli ex da coda a Improta sono quattro i beneventani passati per Salerno ancora centropagina nuovo affondo della procura il boss bisogni il boss bisogni pagava gli avvocati agli uomini del clan poi la polemica a Cava Caso Lamberti Bastolla contro Galdo Capaccio il consiglio di stato boccia croce azzurra l'ASL si affida alla croce bianca di taglio basso Pagani nuova grana per Gambino aumento di stipendio al segretario generale il sindaco si difende con la prima pagina di crona che termina la prima parte della nostra rassegna stampa ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità bentornati in studio riprendiamo la nostra rassegna stampa riprendiamo le pagine del mattino andiamo sulla scuola in provincia di Salerno in Campania provincia di Salerno inizia l'anno col record dei prof malati subito fermi ai box 32 docenti di ruolo sono stati visitati da una commissione medica e giudicati in idonei al servizio casi triplicati nel giro di due anni nel 2017 erano solo 10 le cause stress e anzianità e scattano gli esoneri definitivi quindi si torna in classe col record di prof malati abbiamo detto abbiamo visto nel titolo fermi ai box quest'anno 32 docenti di ruolo classificati come inidonei al servizio causa malattia visitati da una commissione medica sono stati ritenuti impossibilitati a svolgere il servizio in classe troppo malati alle prese con patologie aggravate dal tempo e dal servizio divenuto più usurante quanto emerge da un report dell'ufficio scolastico regionale per la provincia di Salerno i 32 professori sono stati esonerati dal servizio e non potranno stamattina accogliere gli studenti al primo giorno di scuola si apre così il nuovo anno scolastico una spia rossa che si accende per una categoria di docenti sempre più nel mirino di famiglie e messi sotto pressione lo dicono i dati del contenzioso scolastico il numero degli accessi agli atti di quest'anno contro le valutazioni dei prof e il boom di ricorsi al TAR per contestare le decisioni di fine anno nei consigli di classe prof sotto stress e peggio ancora prof ammalati per vecchiaia e troppo lavoro rimaniamo su questa pagina in classe 160.000 studenti quasi 6.000 sono stranieri intanto 48 plessi rischiano di sparire giovani di altre nazionalità sono un freno allo spopolamento lasciamo questa pagina andiamo a pagani fosso imperatore reflui killer nel canale industria sequestrata il blitz in una nota azienda che smaltisce rifiuti non pericolosi un amministratore giudiziario per tutelare maestranze e attività nocera inferiore robustella tribunale da potenziare il nuovo presidente si insedia nell'aula torre promette incremento del personale per snellire le norme mole di lavoro cambio anche le bandiere pagani cocaina nascosta in bocca arrestati due spacciatori poi nocera inferiore torna a estorcere denaro ai genitori 31enne in cella andiamo avanti rimaniamo però sempre sul mattino spostiamoci a battipaglia gestione dei rifiuti SOS al lato dai sindaci tracci linee chiare summit al comune con Bellizzi e campagna e la risposta eboli e pontecagnano che hanno già scelto altri subambiti poi Bellizzi dalla DDA nuove accuse per il boss Enrico Bisogni Camerota scarica reflui nel suolo sequestrato un ristorante Capaccio Pesto un'ambulanza in corteo per Alfieri stop definitivo alla Croce Azzurra il Consiglio di Stato bocce ricorsi della Ollus di Squecco contro la sospensione del servizio assistenza disposta dall'ASL Castellabate imprenditore trovato morto sulla spiaggia giallo di Sessa 39 anni si è allontanato da solo di notte dal suo albergo Agropoli un anziano senza vita trovato trovato in casa senza vita questo è un altro un altro caso andiamo ora a Teggiano se vizia la figlia della convivente condannato per evasione torna alla ribalta la vicenda della giovane di Teggiano segregata per 4 anni dalla madre dal convivente quest'ultimo Stefano Bifolco è stato condannato a un anno e 6 mesi per evasione con il rito per direttissime il processo si è tenuto ieri nel tribunale di Lago Negro il 45enne di Napoli trasferitosi nel corso degli anni a Sapri ha violato alcuni obblighi ed è stato fermato in Basilicata e l'uomo accusato per 4 anni di aver sottoposto la figlia della convivente Veronica a violenze e sevizie che le hanno tolto la vista ad un occhio danneggiato un padiglione auricolare lasciato sulla schiena cicatrici processata anche la madre Giuseppina Galdi di Baronissi la 22enne di Teggiano è assistita dall'avvocato la greca queste erano le pagine del mattino spostiamoci su cronache in primo piano stop alla fuga di cervelli Unisa riparte dalle aree interne per sviluppare conoscenze e competenze dei laureati al servizio del territorio porre dunque un freno all'emigrazione dei giovani laureati attraverso progetti formativi tecnico pratici in grado di valorizzare le aree interne in un'ottica internazionalistica e la sfida colta dall'Università di Salerno attraverso i laboratori per lo sviluppo locale e la cooperazione internazionale l'iniziativa promossa dal Dipartimento di Farmacie finanziata dal Forum Regionale dei Giovani Campania e dal settore politiche giovanili della regione vedrà la partecipazione di 10 neo laureati provenienti da percorsi di studi differenti in attività connesse allo sviluppo sostenibile alla valorizzazione delle aree interne e all'esperienza internazionale dei biodistretti da anni Unisa collabora con il Parco del Cilento per lo sviluppo delle aree interne così ha dichiarato il direttore di Farma Pietro Campiglia i laureati selezionati avranno la possibilità di applicare concretamente le conoscenze acquisite in aula affinché queste diventino competenze i laboratori si terranno tra il campus di Fisciano e il comune di Ceraso andiamo avanti sempre su Cronache Ufficio Europa con Teggiano il comune tra i più accreditati ora sta promuovendo il programma Cultura Crea che sostiene i nuovi imprenditori Teggiano impegnato a fornire informazioni orientamenti del Galvalo di Diano per l'avviamento alle attività extra rurali anche su Cronache il giallo di Castellabate trovato morto sulla spiaggia l'albergatore Domenico Di Sessa poi la curiosità cinema sapri le riprese dell'ultimo film di James Bond andiamo ora a Sant'Arsenio sospesa la raccolta rifiuti sospesa temporaneamente in realtà il servizio è ripreso ieri il comitato no biometano aveva interpellato il comune per la situazione che si era resa insostenibile col passare dei giorni i cittadini erano sul piede di guerra Polla Strianese stiamo facendo ogni manovra affinché la futa deve essere trasferita il presidente della provincia parla di eccessivo allarmismo della popolazione e sempre a Polla lacrimazione di Sant'Antonio ci sono state ci sono nel corso di quest'anno manifestazioni per ricordare lo storico evento e queste erano le pagine di Cronache con cui termina la nostra rassegna stampa vi ringrazio per essere stati con noi auguro a tutti voi buona giornata grazie a tutti i cittadini a tutti i cittadini a tutti i cittadini ciao a tutti i cittadini